Ciao a tutti, noi siamo adesso al Tembio di Havo, che è stato costruito da Ramses Terzo. Si vede i colori nel soffitto, è il Tembio conservato benissimo. Vediamo anche dentro, ci sono colori meravigliosi di questo Tembio, ma questa parte vediamo indietro a me. E' la chiave della vita, anche, e il soffitto, si vede anche la dia Wadget, la dia per proteggere il Tembio, si vede i colori. Indietro a me c'è l'entrata del Tembio, il bilone, e anche come una fortezza è indietro a me. Questo è il Tembio, miraviglioso, il Tembio di Ramses Terzo, il Tembio di Havo, alla riva ovest di Luxor. Noi siamo adesso nel cortile aperto del Tembio. Aspetta per vedere bene. Questa è la statua di Ramses Terzo dietro a me, che rappresentano Ramses Terzo con la forma di Usiride. e di qua si vede la guerra che ha fatto Ramses Terzo contro la Libia, la Siria e anche il popolo del mare. Ciao a tutti, noi siamo al Tembio ancora di Ramses Terzo e si vede indietro a me, Ramses Terzo tiene nemici, prigionieri e poi ha dedicato tutti questi prigionieri al dio Amun-Ra e alla sua moglie. Questo è Ramses Terzo e questi sono prigionieri. Ed è qua Amun-Ra con la doppia piume sopra la testa e la sua moglie per sacrificare questi nemici dell'Egitto.